Musica Viaggi della speranza nell'era del web 2.0 Pare che su Facebook un intermediatore servendosi di un falso profilo organizzasse traversate sul canale di Sicilia per giungere nel nord Europa. L'uomo di origine arabe forniva anche i contatti necessari per permettere i viaggi ai palestinesi e siriani. Inoltre pare che su red e social network si sia costituita una fitta rete di pagine contenente informazioni da parte di profughi già giunti in Europa. Lo stratagema funzionava, infatti il recente sbarco a Pozzallo è avvenuto proprio grazie ai contatti presi sul web. Le famiglie di origine siriana però durante la traversata sono state messe in pericolo dalla furia del mare e dai mezzi faticenti a bordo dei quali viaggiavano. In seguito sono stati soccorsi dalle navi della Marina Militare e trasportati sulla San Giusto. 400 migranti sono stati già trasferiti in altri centri, altri invece a commiso diretti verso il nord Italia. La scoperta dei viaggi e la speranza organizzati su Facebook è inersa anche grazie all'inchiesta sui quattro scafisti fautori dello sbarco degli 864 profughi proprio a Pozzallo. Le indagini effettuate dalla squadra mobile della Polizia di Stato di Ragusa hanno portato al fermo di quattro tunisini che avrebbero intascato circa 1 milione e 500 mila dollari. Flash Mob organizzato dalla CGL e dagli studenti degli istituti superiori palermitani. L'obiettivo è quello di protestare contro il mancato sfruttamento dei fondi europei per le politiche dedicate al miglioramento dell'occupazione dei giovani siciliani. Simbolicamente è stato inscenato un tiro alla fune tra la regione Sicilia e i giovani che lottano contro la crisi. Con questo Flash Mob vogliamo ricordare che la regione deve dare la possibilità a questi giovani di avere un futuro e questo non lo fa e per questo stiamo facendo un Flash Mob dove gli studenti e la regione giocano un tiro alla fune dove gli studenti chiedono un futuro e la regione blocca e tira verso di isa. Dopodiché partiremo e arriveremo al comune e al comune chiederemo uno spazio per poter fare un'assemblea e tutti questi ragazzi credono nel cambiamento e vogliono il futuro. Subito dopo è partito un corteo in direzione di Palazzo delle Aquile e gli studenti vogliono occupare una delle stanze del Palazzo di Città per costringere al dialogo le istituzioni locali sul tema scottante della mancata occupazione giovanile. Pronostici rispettati alla ventesima edizione della Maratona Città di Palermo che nella mattinata di domenica ha visto scattare al via circa 1600 partecipanti molti dei quali arrivati da oltre confine. A vincere nella gara al maschile è stato Carmine Buccilli dell'Atletica Casone Noceto che ha fermato il cronometro a 2 ore 24 minuti e 58 secondi. Una gara che l'atleta laziale ha sempre guidato e condotto spalla a spalla con il marocchino Mohamed Hai finito alle sue spalle con il tempo di 2 ore 28 minuti e 21 secondi. Al terzo posto Vito Massimo Catania vincitore nella passata edizione. Per Buccilli una gara difficile più per il percorso che per il clima. Al termine del primo dei due giri ha fermato stavo quasi per mollare. Dopo il rifornimento del 26esimo chilometro ho ritrovato fiducia e smalto per continuare la mia gara e concludere in solitaria. Come da copione si è disputata anche la gara al femminile con Giussi Chiolo dell'Atletica Mazzarino che ha tagliato per prima il traguardo calando il tris di vittoria in questa manifestazione. In precedenza si era chiusa la gara della mezza maratona incentrata su un giro del percorso. Competizione anche questa secondo copione con il giovane Alessio Terrasi del Cus Palermo primo con il tempo di 1 ora 10 minuti e 36 secondi. Gara autoritaria per Terrasi che è partito forte, ha patito nella seconda parte della gara senza però mettere mai in discussione il suo successo finale. Tra le donne podio tutto d'oltre lo stretto. Prima è stata Gloria Giudici di Appiano Gentile, seconda Raffaella Malverti di Ferrara e terza Lara Villa di Ravenna. Safir. Nata con prerogative di alta qualità, oggi Safir è l'industria per la sicurezza che senza smentire un passato esclusivamente artigianale abbina a tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza e manualità che da sempre la contraddistingue. Safir. La sicurezza dei tuoi beni più cari. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su QDS.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Anche quest'anno abbiamo fatto delle ceramiche particolari per le feste di Natale. Vi invitiamo a venireci a trovare qui in fabbrica, a vedere e fare assieme il vostro regalo di Natale. O regalarlo o regalarselo. È sempre un motivo di gioia una ceramica in open room. Storie di morti e di sopravvissuti che si intrecciano sulla rotta dell'immigrazione. Un barcone si ribalta in mare a largo di Tripoli e affonda. I migranti salvati da due motovedette della guardia costiera ed un rimorchiatore d'altura dirottati sul posto sono 100. Vengono recuperati due cadaveri, ma il bollettino di morte potrebbe essere ben più grave. Le vittime sono due donne e due sorelle nigeriane di 21 e 23 anni che sognavano un futuro migliore e per questo erano fuggite dal loro paese. A riconoscerle le altre due sorelle che sono invece sopravvissute al naufragio. Tre migranti trasbordati sul pattugliatore d'altura Giorgetti della guardia costiera, due feriti da ustione causata dall'olio del motore del barcone affondato. Sono due donne di cui una al nono mese di gravidanza. Sono giunti in serata sulla banchina Todaro del porto di Porto Empedocle a coordinare le operazioni il comandante della Capitaneria di Porto, Massimo Di Marco. Sul posto d'accogliere le salme e i sopravvissuti anche il prefetto Nicola Diomè del questore di Agrigento, Mario Finocchiaro del vice questore aggiunto di Porto Empedocle, Cesare Castelli. Sul molo ha dato la sua benedizione alle due donne decedute il parroco della chiesa madre di Porto Empedocle, Don Leo Argento. Le salme sono state trasferite alla camera mortuale dell'ospedale civile di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria e dopo le procedure di rito l'autopsia verranno seppellite nel cimitero di Raffadali. E stamattina nuovo carico di migranti giunto a Porto Empedocle. 252 sedicenti siriani e rakeni, tra cui 40 donne e minori, salvati dal mercantile statunitense Liberty Grace, dalle motovedette della Guardia Costiera e dalla polizia. Il mercantile è rimasto a circa un miglio dalla banchina di Porto Empedocle prima delle operazioni di trasbordo sulle motovedette della Guardia Costiera per essere condotti a terra. Da Mare Nostrum a Triton, insomma, l'emergenza non cambia e neanche il carico di lavoro. La situazione è quella che vedete, lo Stato è sempre presente, le amministrazioni sono sempre presenti, la Guardia Costiera 24 ore su 24, il nostro impegno, quello di portare soccorso alle persone, l'impegno primario assolutamente prioritario per noi, è portato avanti tutto l'anno, quindi non facciamo mai questioni di nome di operazioni, le istituzioni sono presenti, tutti fanno presente il loro lavoro ogni giorno, ogni ora. Scandalo appalti nel settore dei lavori sulle autostrade siciliane. L'operazione denominata Tecno, condotta alla Direzione Investigativa Antimafia di Catania, ha permesso di ricostruire le irregolarità all'interno delle gare d'appalto e le assegnazioni a imprese che si aggiudicavano in maniera illecita ai lavori. I reati ipotizzati a vario titolo sono di turbata, libertà degli incanti, induzione a dare o promettere utilità e stigazione alla corruzione. 8 gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Messina Maria Luisa Matera su richiesta del procuratore Guido Loforte dall'Aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Fabrizio Monaco. Successivamente ai controlli disposti dalla procura di Messina sulla gestione della Tecnogest riconducibile ad Antonio Giordano, dichiarata fallita dal PM. I provvedimenti eseguiti dalla DIA di Catania riguardano 5 imprenditori, fratelli Giacomo e Antonio Giordano di 43 e 46 anni, Francesco Duca di 46 anni, Rossella Venuto di 43 e Giuseppe Iacolino di 32 anni. Gli altri due nomi ricadono all'interno dei colletti bianchi del Consorzio Autostrade Siciliane. Si tratta del dirigente Letterio Frisoni di 61 anni e del funzionario Filadelfio Scorza di 55 anni. E infine arresti domiciliari anche per Filippo Filippi di 72 anni, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Policlinico di San Matteo di Pavia, poiché avrebbe imposto all'imprenditore Giacomo Giordano l'assunzione di un romeno nella sua ditta che aveva vinto l'appalto di pulizia nell'ospedale Lombardo, in cambio, però, della liquidazione di lavori eseguiti dalla società. Il GIP ha interdetto all'attività imprenditoriale Andrea Valentini di 54 anni e Antonio Chillè di 53. È disposto il sequestro cautelativo di beni complessivi a 100.000 euro nei confronti di Letterio Frisone, cifra che dovrebbe corrispondere alla presunta tangente che il dirigente del CAS avrebbe ricevuto insieme alla ristrutturazione gratuita di un suo immobile. Frisone, approfittando del suo ruolo di responsabile del provvedimento della gara al centro dell'inchesta, avrebbe fatto ottenere lavori ai imprenditori amici. La gara d'appalto in questione è quella dei lavori del servizio di sorveglianza per l'A18, la Messina Catania Siracusa Rosolini, e l'A20 la Messina Palermo, turbata attraverso un accordo sulle percentuali in ribasso. Una rete di protezione ben congeniata intorno al super latitante Matteo Messina Denaro, che continua a essere ai vertici trapanesi di Cosa Nostra, dall'elettrauto, che controllava la presenza di microspie nell'auto dei boss, al dipendente della motorizzazione civile di Trapani, che verificava le targhe sospette. Perfino un'insospettabile comparsa nella soppe di Agrodolce, Salvatore Lupiparo, del clan di Bagheria vicino a Messina Denaro, ora collaboratore di giustizia, raccontato di aver impersonato un poliziotto che fu incaricato di prendere delle pettorine con la scritta Polizia per una rapina al Corriere. Un quadro che emerge dalle indagini condotte dai carabinieri del ROS e del comando provinciale di Trapani, che hanno messo a segno l'operazione denominata Eden II, coordinati dal procuratore aggiunto Teresa Principato e dai sostituti Maurizio Agnello e Carlo Marzella. Sono stati emessi 16 ordini di custodia cautelare in carcere su richiesta della procura distrettuale antimafia di Palermo contro altrettanti affiliati al clan trapanese. L'accusa è di associazioni di tipo mafioso, estorsione, rapina pluriaggravata, sequestro di persone ed altri reati aggravati alle finalità mafiose. Ma il colpo durissimo, non solo per le economie e le architetture del clan trapanese, ma anche per la famiglia di Matteo Messina Denaro e l'arresto di un altro dei suoi familiari, un pezzo importante, secondo la stessa Principato, che insieme ai sostituti Agnello e Marzella lo accusano di essere l'ultimo ambasciatore del superlatitante. Si tratta del nipote acquisito Girolamo Bellomo, detto Luca, di 37 anni, arrestato nella residenza di via Benedetto Marcello a Palermo, tra la via Arrigo Boito e la via Malaspina, in cui sono stati rinvenuti indizi importanti che potrebbero portare allo zio. L'uomo, sposato con Lorenza Gutta d'Aura, avvocato penalista e figlia della sorella di Messina Denaro, dopo gli arresti del 2003 che avevano decimato la famiglia, si era messo a gestire gli affari sporchi della Cosca, occupandosi di imprese con interessi nel settore edilizio e commesse importanti come la costruzione di un centro commerciale a Castelvetrano. Bellomo non solo avrebbe garantito la latitanza di Messina Denaro, ma si sarebbe occupato di mantenere i rapporti con le cosche palermitane, soprattutto con quelle di Brancaccio, divenendo anche il braccio armato del cognato, Francesco Gutta d'Auro, arrestato nel 2003. I lavori del passante ferroviario della città di Palermo e lavori pubblici appaltati dal comune di Bagheria nel mirino della mafia è quanto sarebbe emerso dalla complessa indagine della Direzione Investigativa Antimafia di Palermo che ha portato al maxi sequestro del patrimonio di famiglia dei fratelli Raspanti, imprenditori palermitani ritenuti collettori degli interessi della famiglia mafiosa di Bagheria nella gestione del movimento terra e delle attività edili correlate. In particolare, le indagini hanno accertato che i due fratelli avrebbero imposto all'azienda che si erano giudicati i lavori pubblici di rifornirsi di materiale edile presso le loro aziende. Il padre del Raspanti, Antonino, era stato negli anni 50 e 60 un elemento di spicco della mafia bagherese. Nel giugno del 2014, uno dei fratelli, Francesco, era rimasto coinvolto in un'inchiesta che aveva portato all'arresto di 30 persone ritenute responsabili di associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione e rapine ed altro. In quell'occasione, Raspanti era stato indiziato di estorsione aggravata connessa ad attività mafiosa ed era tuttora sottoposto al regime degli arresti domiciliari. I beni sequestrati a due imprenditori, per un valore pari a circa 17 milioni di euro, riguardano beni immobili, mobili, rapporti bancari e capitale sociale e compendo aziendale di quattro ditte. L'impresa individuale Raspanti Francesco con sede legale a Trabbia, il centro edile scavi S.p.a. in fallimento, l'impresa individuale Pedone Anna, la società Novo Gelato e la Rebucco S.r.l. quest'ultime con sede legale a Bagheria. 30 ex PIP Tutor sono saliti sul tetto della sede all'assessorato alla famiglia di Via Trinacre e hanno minacciato di buttarsi giù. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno gonfiato un materasso sotto il palazzo in caso qualcuno si volesse lanciare. Sono intervenuti anche i vigili urbani che hanno interrotto il traffico automobilistico in zona. Davanti alla sede dell'assessorato c'erano anche i carabinieri, tutti con gli occhi puntati al tetto. Gli ex PIP sono un bacino di 229 persone che dal 2001 non lavorano più. Dopo anni di lotte, nel 2010 la vocatura dello Stato ha ratificato la loro richiesta di essere inseriti nel bacino degli ex PIP. Solo lo scorso 1 ottobre la quinta commissione a Lars ha ricevuto i rappresentanti degli ex PIP Tutor e ha promesso loro che verranno inseriti nel bacino. Ma da quel giorno è calato il silenzio e nessuno si è più mosso tra i rappresentanti delle istituzioni regionali. Non si ferma la scia di sangue lungo le strade siciliane. Ancora un incidente mortale si è verificato nella serata di martedì a Gela, in provincia di Caltanissetta. A perdere la vita è stato un giovane di appena 17 anni, Salvatore Scerra. Il ragazzo era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha urtato una Fiat Punto perdendo il controllo del mezzo e andando a sbattere contro tre auto posteggiate. Nello scontro con le vetture avvenuto all'incrocio tra la via Tevere e la via Settefarine alla periferia della città, il giovane ha avuto la peggio in quanto è stato letteralmente sbalzato dal proprio scooter, andandosi a schiantare prima contro alcuni cartelloni della segnaletica stradale e finendo poi rovinosamente a terra, riportando gravissime lesioni. A nulla sono valsi i soccorsi degli operatori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza. Il 17enne è stato immediatamente trasferito all'ospedale Vittore Emanuele, ma il cuore di Salvatore purtroppo avrebbe smesso di battere, proprio mentre i sanitari lo stavano portando in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale di Gela, che hanno effettuato i rilievi del caso al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e risalire alle sue cause. Pare inoltre che la vittima, al momento dell'impatto, non indossasse il casco protettivo. Presidio dei lavoratori di Accenture davanti ai cancelli dell'azienda di via Ugo Lamalfa. Da oggi 262 lavoratori hanno trovato le porte chiuse per fine lavoro. L'azienda British Telecom, che ha appaltato il lavoro dei 262 lavoratori fino allo scorso 31 ottobre, da oggi comincerà lo smantellamento dei locali palermitani. L'ultima speranza è riposta nell'incontro che si terrà il 27 novembre al Ministero del Lavoro con Accenture, British Telecom, Comune di Palermo, Regione e organizzazioni sindacali. Anche una delegazione di lavoratori andrà a Roma, in Pullman. Tra loro molte madri e padri di famiglia, preoccupati per il loro futuro lavorativo. Rabbia perché l'azienda British Telecom ha chiuso in attivo lo scorso marzo e non è in fallimento. Domani si terrà la manifestazione nazionale dei call center di CGL Cisle Will. In tanti andranno a Roma per prendere parte alla Notte Bianca. A Palermo, domani mattina, un corteo da Piazza Marina alla Presidenza della Regione per chiedere a Crocetta di farsi carico di rappresentare al Governo centrale la drammatica situazione dei lavoratori siciliani che accomuna le sorti dei call center Accenture, Almaviva 4U e scongiurare i licenziamenti di massa. L'azienda, una parte di noi, ha comunicato che oggi non si sarebbe dovuta presentare al lavoro in quanto la commessa non è più gestita qua a Palermo. Ma la parte che è da quest'altro lato della sbarra non ha ricevuto nessun tipo di comunicazione per cui oggi noi dobbiamo entrare nel nostro luogo di lavoro. Dopo aver annunciato il blocco delle attività per mancanza di liquidità il pastificio Tomasello ha consegnato le lettere di licenziamento ai 56 dipendenti della storica azienda. Un momento drammatico che non toglie però le speranze di far rimanere il marchio sul mercato. Al momento infatti per la fabbrica del presidente Giovanni Tomasello ci sono trattative in corso per il contratto di affitto di ramo d'azienda. Non è chiaro ancora se la struttura manterrà una quota di partecipazione nella società nel caso in cui si dovesse parlare di cessione ma comunque vada, le possibilità di fare rimanere il marchio sul mercato sono alte. A giorni poi dovrebbe esserci l'incontro organizzato dagli assessori regionali alle attività produttive, all'agricoltura, bancheri e caleca da dove potrebbero uscire novità visto che la regione ha annunciato nei giorni scorsi la sua decisione di non abbandonare il pastificio per difendere i lavoratori e le famiglie siciliane. Nei prossimi giorni si terrà quindi un tavolo istituzionale urgente sugli ostacoli che impediscono la nascita della filiera e dei consorsi del grano in Sicilia a cui parteciperanno anche i responsabili del pastificio e i sindacati. Il pieno d'azione degli assessorati è la prima risposta all'appello lanciato nei giorni scorsi proprio da Margherita Tomasello cuore del marketing aziendale. Nessuno parla dell'aumento del costo del grano duro aveva detto l'imprenditrice passato questo mese da 27 a 40 centesimi al chilo Nell'ultimo periodo inoltre c'è stata anche la difficoltà a reperire la materia prima di qualità per una drastica riduzione della produzione mondiale di grano duro A questo punto abbiamo deciso di andare verso una ristrutturazione e mettere sul mercato l'azienda Ci troviamo sulla banchina Todaro alle mie spalle il pattugliatore Peluso della Guardia Costiera con a bordo 280 migranti un nuovo carico che fa Capolino qui a Portempedocle e il quarto dopo l'avvio della missione Triton missione gestita dall'Unione Europea Attento e vigile come sempre il dispositivo delle forze di polizia e quello che fornisce assistenza sanitaria Come vedete la Capitaneria di Porto insieme a tutte le altre organizzazioni coordinate dalla prefettura quindi polizia, carabinieri, guardie di finanza Croce Rossa, medici dell'ASP la sanità marittima che deve dare l'autorizzazione allo sbarco prima dell'arrivo dei migranti per motivi ovviamente di controllo per malattie o altri fenomeni in atto c'è uno sforzo organizzativo eccezionale Qui gli operatori prestano soccorso a una persona accompagnandola in barella L'imperata da Astenia era incapace di diambulare più una donna che aveva febbri alte quindi è stato preferito mandarla subito all'ospedale civile E tra i 288 immigrati approdati a Portempedocle anche un uomo ferito come racconta il comandante della Capitaneria di Porto Persona ferita per colpi di arma da fuoco sicuramente ora la magistratura avrà tutte le carte e farà tutte le indagini del caso I migranti dopo il nulla osta sanitario sono stati presi in consegna dalle forze di polizia per gli adempimenti di rito e per il successivo trasferimento presso i doni di centri di accoglienza Cosa è cambiata? Se è cambiata qualcosa dal punto di vista operativo con l'avvio dell'operazione Triton? Come vedete la Guardia Costiera è sempre operativa 24 ore su 24 noi portiamo soccorso a tutte queste persone che riusciamo a recuperare nel canale di Sicilia solo dall'inizio dell'anno a Portempedocle quasi 17.000 persone questi sono i numeri che vi fanno capire l'entità del fenomeno l'organizzazione e lo sforzo messo in campo dalla Guardia Costiera responsabile del soccorso in mare insieme a tutte le altre amministrazioni che danno questo valido supporto Presunto caso di malaria per una donna sbarcata ieri a Portempedocle nell'Agrigentino insieme ad altri 282 emigrati dopo i primi accertamenti dei sanitari presenti sulla banchina Todaro la donna a causa della febbre molto alta è stata trasportata presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento secondo quanto rende noto la Guardia Costiera tutti i sintomi ricondurrebbero proprio ad un presunto caso di malaria ma aspetterà ai medici del nosocomio di Agrigento effettuare gli accertamenti di rito e allontanare o meno l'ombra della patologia Assistite dai sanitari della Croce Rossa anche altre tre persone una con lievi ustioni una in preda d'astenia e incapace di deambulare autonomamente ed una terza con cicatrici di una pregressa ferita d'arma da fuoco tutti e tre sono stati assistiti e medicati direttamente in porto poiché i medici del 118 non hanno ritenuto necessario il trasporto in ospedale i 283 migranti sono stati soccorsi dal pattugliatore d'altura CP905 Peluso della Guardia Costiera che le è tratti in salvo nel canale di Sicilia a circa 40.000 a nord dalle coste libiche in tre distinti eventi di soccorso il pattugliatore era stato inviato sul posto dalla centrale operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per il soccorso ad un barcone i migranti provenienti dalla costa d'Avorio dal Ghana dalla Nigeria dal Senegal sono stati costantemente monitorati a bordo dal personale medico del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta in servizio sull'unità e sono risultati complessivamente in buone condizioni di salute è scattata questa mattina all'alba l'operazione Caronte da parte del ROS del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania e della DDA con l'esecuzione di 23 ordinanze di custodia cautelare in carcere assestando un duro colpo al clan mafioso associato alle famiglie Santa Paola Ercolano i provvedimenti sono scaturiti per i reati di associazione mafiosa con corso esterno in associazione mafiosa estorsione illecita concorrenza nel mercato dei trasporti ed intestazione fittizia di beni al centro delle indagini l'infiltrazione di Cosa Nostra nei settori dei trasporti marittimi e terrestri dell'edilizia e della grande distribuzione alimentare delle carni contestualmente è stato eseguito un sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro comprendenti 31 imprese 7 immobili e 4 autoveicoli compiuto tra Catania Palermo Messina Napoli Manto Vettorino i principali indiziati sono stati Vincenzo Ercolano e Vincenzo Aiello coadiuvati dagli imprenditori Francesco Caruso e Giuseppe Sciuto le investigazioni hanno permesso di fare luce sui rapporti dei soggetti con esponenti di spicco della politica come l'allora presidente della regione Raffaele Lombardo e Giovanni Cristaudo per accelerare le pratiche amministrative per questo era stato anche creato il partito nazionale degli autotrasportatori nel 2008 canale privilegiato con la pubblica amministrazione per l'incasso di Eco Bonus Altra strada per gli sviluppi del gruppo mafioso quella degli accordi con la ditta Amadeus riconducibili all'attitante Amedeo Matacena già condannato nel 2012 con l'affitto di tre navi da utilizzare come vettori per il collegamento via mare tra la Sicilia e la Calabria Nelle attività relativi alla commercializzazione delle carni per la grande distribuzione sarebbero emersi interessi dell'associazione mafiosa per le aziende di Carmelo Motta gestore delle macellerie dei supermercati Fortè e Giovanni Malavenda per gli Eurospin Sicilia l'intervento è servito per impoverire le cosche criminali ed i singoli affiliati incidendo anche sul controllo territoriale dell'organizzazione mafiosa ripristinando condizioni di legalità nell'economia Fermento fra i ragazzi e gli istituti superiori di Palermo gli studenti dell'istituto tecnico Ettore Majorana sono partiti in corteo da via Storino per passare poi davanti al liceo scientifico Galileo Galilei in via Danimarca e coinvolgere gli altri ragazzi a protestare ma a continuare il corteo però è stato solo il nucleo duro dei ragazzi del Majorana scortati dalla Digos e dai vigili urbani hanno continuato a sfilare lungo l'asse di Viale Strasburgo a Palermo mandando in tilt la circolazione i ragazzi hanno proseguito il percorso in direzione della sede regionale della RAI il vivace corteo è stato animato da Cori contro il governo Renzi che scandivano noi la buona scuola non la vogliamo l'istituto tecnico Majorana è uno dei pochi che non è stato ancora occupato in città gli istituti superiori che sono stati occupati negli ultimi giorni sono i licei Croce Canizzaro Garibaldi e il liceo Ernesto Basile ma la situazione è in evoluzione anche negli istituti superiori non occupati si organizzano assemblee di istituto e cortei sparsi un altro mutuo da poco più di 2 miliardi di euro ecco l'ultima mossa con cui il governo Crocetta prova a saldare i debiti maturati con i fornitori e gli appaltatori della sanità pubblica e per dare copertura alle rate con cui verrà restituto il prestito il governatore prevede di mantenere inalterate per 30 anni le aliquote dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF già elevate al massimo possibile negli anni scorsi proprio per coprire il deficit della sanità pubblica maturato ai tempi del governo Cuffaro il disegno di legge con cui la regione chiede a Lars il via libera per accendere il nuovo prestito è stato approvato martedì scorso adesso si aspetta il parere del Parlamento nel provvedimento il governo precisa che il prestito da un miliardo acceso nel maggio scorso fra mille polemiche non è stato ritenuto sufficiente dal Ministero dell'Economia che seguì in estate una verifica dei conti in queste condizioni scrive Crocetta nella relazione allegata al DDL la regione è obbligata a chiedere una nuova anticipazione di cassa al Ministero altrimenti lo stesso governo centrale invierebbe un commissario ad acta per formalizzare la richiesta al di là della procedura la regione ha messo per iscritto che deve ancora saldare debiti della sanità pubblica per almeno un miliardo e 775 milioni si arriva però a un prestito da due miliardi come stima prudenziale del fabbisogno la manovra ha già provocato la dura reazione di Forza Italia che con Marco Falcone annuncia le barricate e si scaglia contro l'assessore Baccei chiedendo di non indebitare ulteriormente i cittadini siciliani e di agire piuttosto per rimuovere le ingiustizie ai danni della Sicilia Comunica Fosice 202 in atto sul Palermo 98 Banzo in appoggio anche alla me Ok Global Security International Gli specialisti della vigilanza e della sicurezza Personale altamente qualificato Pronto intervento Controllo attività commerciali con tecnologie innovative Global Security International Servizi di scorta Radio e telecamere Telesoccorso 24 ore su 24 Vigilanza notturna e diurna Vigilanza fissa Punzonature Trasporto valori Global Security International Consorziato Sicurgem Contattaci per la tua sicurezza Chi covo un amore d'uovo Musica Continuaeth Si covo un amore d'uovo conocissimi Valori Prod Emnar Cent 𝘚her Trat Cent emotion Princess Volald Grazie a tutti